Buongiorno, buongiorno alle 18.45 di oggi, Ren-Milan, ritorno dei playoff di Europa League. Siamo in attesa di questo incontro tra i rossonieri di Francia e i rossonieri italiani. Nel pomeriggio ci sarà ovviamente il solito corteo della curva che arriverà allo stadio, ci saranno tanti tifosi del Milan che sono partiti dall'Italia, li salutiamo tutti perché ovviamente fanno sempre tanti sacrifici per stare vicino alla squadra, nei momenti buoni e nei momenti meno buoni. Come sempre ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, iscrivetevi in tanti, è importante e fondamentale per la crescita del canale e in questo canale vi faccio vedere anche delle immagini. Immagini di un incontro che c'è stato oggi a Milano, perché non è andato in Francia, e poi dopo ribadiamo tutto, tra il presidente del Milan, Paolo Scaroni, tra il dirigente dell'Inter, Antonello, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Un incontro a tre, tra Milan, Inter e il sindaco di Milano, proprio al comune, nella sede del comune di Milano. Un incontro che è durato circa una mezz'ora, è cominciato intorno alle nove, nove, fino alle nove e mezza, poi i tre si sono anche fatti fotografare tutti insieme. Cosa c'era alla base di questo incontro? Il sindaco Sala ha voluto chiamare le due squadre per ribadire la volontà, da parte del comune, di ristrutturare San Siro. Noi sappiamo che i club hanno accettato l'invito di andare al comune, di ascoltare la proposta del sindaco, ma soprattutto il Milan è intenzionato ad andare avanti su San Donato, perché ha acquisito quei terreni, ha speso una quarantina di milioni di euro, non tutti per i terreni, una ventina per i terreni, ma per il resto anche per tutta la parte burocratica. L'Inter, quello che risulta, ha una prelazione con Rozzano, mentre il Milan ha una cosa concreta con San Donato, l'Inter ha solamente una prelazione, però i due club sembrerebbero intenzionati ad andare avanti per le loro strade, divise Rozzano e San Donato. Quindi incontro che è durato una mezz'ora fa capire che è stato giusto il tempo di una breve chiacchierata, di un saluto, altrimenti avrebbero approfondito la questione e sarebbero rimasti all'interno del comune con il sindaco per diverse ore. Attenzione perché, oltre all'aspetto del comune, scusate, dello stadio dove l'incontro c'è stato in comune tra Scaroni, Antonello e Sala, ieri abbiamo detto che Gerry Cardinale e Giorgio Forlani in questi giorni sono stati via per viaggi d'affari. In particolar modo sono stati segnalati in Medio Oriente, quindi in Arabia. Sappiamo anche benissimo che il Milan ha una sede rossonera in Dubai, una sede strategica dove è possibile incontrare investitori, è possibile incontrare nuovi partner, sponsor e possibili investitori che vogliono collaborare nel Milan. D'altronde Gerry Cardinale è il proprietario di un fondo e il fondo va proprio in giro a raccogliere investitori, quindi è possibile che questi viaggi di business, questi viaggi d'affari in Medio Oriente servano proprio a questo, a far entrare investitori nel Milan. Su questo lo abbiamo sempre detto e non l'abbiamo mai negato. Poi bisogna capire se Cardinale vuole far entrare eventuali investitori, soprattutto con quote di minoranza. Sembrerebbe questo l'orientamento, almeno ad oggi. Ieri Cardinale e Furlani hanno concluso questi viaggi in Medio Oriente e oggi Furlani è diretto a Milano e Cardinale sarà a Miami, sia oggi che domani per un importante convegno tra tecnologie e umanità, come le tecnologie possono incidere ed influire sull'umanità. convegno molto importante, ci sono grandi personalità, personalità di spicco in ogni settore, in ogni ramo. C'è anche Gerry Cardinale, ma la cosa interessante, lo abbiamo scritto anche ieri in un articolo delle 17.30 su Milan News, che ci sarà anche il responsabile della divisione sviluppo nazionale di PIF, del fondo PIF. Sarà una coincidenza? Non lo sappiamo. Lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se magari la presenza di PIF in questo convegno sarà anche una presenza strategica, dove il buon Gerry Cardinale allaccerà ancora di più rapporti con il fondo PIF, che è il fondo che in questo momento gestisce e governa il Newcastle, sapete benissimo, tra l'altro Newcastle affrontato dal Milan in Champions League, dove il Milan ha avuto un pareggio e una vittoria contro la squadra di Sandro Tonali. Quindi vedremo se questo incontro a Miami, il convegno dura due giorni, sarà anche un incontro che porterà qualcosa in più per il Milan, inteso come collaborazioni, come partnership, o addirittura come ingresso in società a livello di quote. Vedremo, su questo non possiamo sicuramente avere la sfera magica per prevedere il futuro. Quindi abbiamo parlato di Cardinale a Miami e il fondo PIF, di Furlani, che è tornato dai viaggi insieme a Cardinale, ma resta a Milano, non va a Rennes, dove a Rennes c'è Ibrahimović con Moncada. A proposito, vi faccio vedere anche le immagini della squadra di Ibrahimović, di Moncada, Leao, Giroud, tutti i componenti della squadra rossonera in questo video. Abbiamo parlato dello stadio, scetticismo da parte di Milano e Inter sulla proposta di ristrutturazione da parte di Sindaco Sala di San Siro, parliamo anche della formazione. Perché stasera alle 18.45 si gioca, vi ricordate, non alle 21, ma alle 18.45 a Rennes, qual è la probabile formazione? Il Mian potrebbe presentare un paio di sorprese. Allora, la sorpresa principale potrebbe essere l'esclusione di Love2Chic, apparso un po' stanco nella partita contro il Monza. L'altra è il possibile turnover tra Giroud e Jovic, con Jovic che potrebbe giocare dal primo minuto anche perché è squalificato sia con l'Atalanta che con la Lazio. E questo incide sulle scelte. Ballottaggio a destra tra Pulisic e Ciukueze. Quindi ci sono un po' di situazioni da sciogliere, però Pulisic sembra in vantaggio su Ciukueze, Jovic in vantaggio su Giroud e a posto di Love2Chic invece dovrebbe giocare Reinders, quindi con Benasser, Reinders e Musa. Potrebbe essere un centrocampo a tre oppure Reinders spostato sui trequartisti e in quel caso sarebbe un centrocampo a due con Musa e Benasser e Reinders più avanzato. Ma immaginiamo invece più semplicemente un 4-3-3 con Mignani in porta, Florenzi a destra, Teo Hernandez a sinistra, Kier e Gabbia al centro della difesa quindi torna in panchina Malik Chao dopo la partita purtroppo sbagliata contro il Monza. Purtroppo abbiamo visto un Malik Chao davvero non in condizione. Con Musa, Benasser e Reinders al centrocampo mettiamo Pulisic, Jovic e Leao nei tre davanti. Ribadisco due-tre sorprese rispetto alla formazione che abbiamo immaginato nell'escorsione. Ditemelo voi nei commenti se ci sta a fare questo tipo di cambiamenti, questo tipo di turnover anche se non piace a Stefano Pioli il termine turnover utilizziamo un altro termine non turnover ma rotazioni e quindi ditemelo voi nei commenti vi convince o no questo schieramento questa formazione vi ricordo che Kalulu e Tomori sono rientrati in gruppo e ieri vi abbiamo testimoniato con le immagini il rientro in gruppo dei due difensori però non sono presenti a Ren e vedremo se verranno chiamati in causa almeno nella lista dei convocati domenica sera contro l'Atalanta sarebbe comunque già un passo avanti per due difensori che mancano davvero da tantissimo tempo ci vediamo più tardi un abbraccio a tutti ciao